Vigilia di campionato, vigilia di derby per il Teramo che domani allo stadio adriatico Cornacchia affronterà il Pescara. Una gara che c'è stata dieci giorni fa in Coppa Italia qui al Bonolis e che invece domani vedrà nell'impianto adriatico sfidarsi dei due abruzzesi del girone B di serie C. Guidi sarà senza Soprano, ancora out per infortunio, oltre lungo dei genti Trasciani, Chiere Mateng, Cucurullo, Rossetti che sarà sottoposto all'operazione. Come senza Bois che si è fatto male contro la Fermana e senza Andreca che è stato convocato con l'Under 21 al Balecci. Insomma qualche problema di troppo soprattutto dietro per l'allenatore toscano che però chiede ai suoi per la gara di domani più del 100%. E sappiamo che per venirne a capo, per tirare fuori un risultato positivo, serve qualcosa di più del massimo. Sappiamo dell'importanza della gara, sappiamo l'importanza del momento, sappiamo quanto i tifosi sentano questo tipo di partite. Anzi colgo già l'occasione per ringraziarli perché so dell'affetto e dei tanti che verranno a sostenerci. Questo non ci può che far dare qualcosa in più sul campo per renderli orgogliosi di noi e ci proveremo fino alla fine. Sfrontatezza sì, domani servirà contro il Pescara ma senza abbandonare i principi di gioco. Quelli tanto cari a Federico Guidi che ha due dubbi soprattutto davanti. Bernardotto giocherà certamente titolare e allora a questo punto Birligea, Rosso e Malotti si giocano due maglie in tre. L'entusiasmo va cavalcato e soprattutto non bisogna dimenticare da quello che di negativo avevamo fatto a Ponte d'Era che ha fatto sì di avere quel tipo di reazione. Però quell'arrabbiatura, quegli errori non possono essere dimenticati. Quelli devono fare per noi e devono essere esperienza che ci devono aver insegnato qualcosa e soprattutto ci deve far capire che nelle ultime prestazioni sia col Pescara in Coppa Italia che nell'ultima partita di campionato, giocando in una certa maniera, curando la prestazione soprattutto mettendo in campo quei principi che siamo soliti fare e lavorare ci hanno portato anche a fare dei risultati buoni. Nelle prossime ore sarà tesserato anche l'ultimo arrivato Pinto che dovrebbe aggregarsi qualora arrivasse il benestare della Lega alla truppa bianco-rossa. Dall'altra parte il Teramo troverà un Pescara ferito dalla sconfitta di Cesena e che arriva a questo appuntamento di campionato in condizioni psicologiche opposte rispetto a dieci giorni fa quando in Coppa Italia il Teramo passò per 1-0 con Goldiviera. Noi come squadra siamo nettamente più giovani rispetto al Pescara e magari lo potremmo pagare in qualsiasi zona di campo ma questo non deve essere un alibi, anzi a volte la sfrontatezza, la spregiudicatezza, l'entusiasmo e la voglia del più giovane forse ti fa fare qualche rincorsa in più rispetto magari al giocatore più esperto.